buonasera eccoci qui un'altra volta in compagnia di gilda biseth indegnamente rappresentata come al solito dal sottoscritto ricco piccini e questa sera abbiamo il piacere di ospitare alessia pizzi buonasera alessia ciao ciao a tutti alessia pizzi è una è una giovane operativa donna insomma confronto a me giovane e ha una laurea magistrale a filosofia classica dirige un blog bellissimo che si chiama culturamente culturamente non ci mettete la l assolutamente sbagliano tutti compresa lei collabora a un bellissimo progetto telematico per l'enciclopedia delle donne come dice che come dice il titolo stesso si occupa della storia delle donne nell'ambito della società di tutti i tempi e giornalista e però sta diventando favolosamente ricca svolgendo il lavoro di come si dice consulente di digital marketing non dire in giro che sono ricca perché sennò poi mi rovini il mercato no ma arrivare tra noi si intervista la vedranno in quattro e qui riassume a una cultura classica però una professionalità rivolta al mondo del web è un grande interesse come abbiamo detto per la storia delle donne questi tre elementi sono più che sufficienti sono gli ingredienti proprio nel libro che andiamo a presentare che è un pezzo teatrale un atto unico e che porta un titolo molto bello e poi ce lo spiegherà lei perché è molto bello qualcuno si ricorderà di noi edito da la fusibilia libri diciamo bene di nome fusibilia libri e e quindi adesso lo chiediamo proprio a lei ma perché si intitola così e di che parla questo pezzo teatrale allora prima di tutto bisogna dare merito e credito a colei che ha ideato il titolo del mio libro e anche se non l'ho conosciuta purtroppo personalmente per diciamo problemi anagrafici possiamo dire così il titolo del libro è un estratto di un frammento di saffo e saffo affermò io dico che un giorno qualcuno si ricorderà di noi e quando io ho preparato la mia tesi di laurea mi ha molto colpito questo frammento perché mi son detta ma guardate questa che coscienza poetica che aveva pur essendo possiamo definirla la mosca bianca della letteratura occidentale in ottica femminile intendo no perché la prima voce no che parla in maniera autocosciente e purtroppo una delle poche poi nel corso dei secoli e quindi in questo frammento io ho rivisto anche un po la sfortuna di tutte quelle che hanno seguito saffo come maestra letteraria perché in realtà in questo libro saffo non è l'unica protagonista ma sono protagoniste con lei delle poetesse che purtroppo non hanno avuto la sua stessa fortuna e nella fatti specie mi riferisco a erinna anite e nosside che sono tre poetesse erinna a cavallo tra l'età classica e quella ellenistica mentre anite e nosside sono di età ellenistica quindi sono successive a saffo insomma di più di qualche secolo però purtroppo insomma di loro c'è rimasto ben poco e soprattutto non vengono studiate a scuola io ho avuto il grande onore di studiarle per la mia tesi di laurea perché sono andate in inghilterra proprio a cercare materiale bibliografico su di loro e e da lì è nato il mio amore per queste donne inascoltate no avevo proprio voglia di rispolverare la letturatura classica e vedere se c'era qualcosa da tirare fuori rispetto alle chiamiamo le solite tematiche insomma e quindi in questo corto che è nato in realtà un po per caso ho deciso ma neanche ho deciso mi è venuto spontaneo ma probabilmente per il mestiere che faccio da ormai quasi sette anni di unire google al risveglio di queste tre poetesse e ovviamente google è aiutato da saffo no in questo suo ruolo di medium e mi è piaciuto giocare con questa parola perché google non è solo un medium in quanto è un mezzo no quindi è lo strumento con cui oggi noi accediamo alla conoscenza e quindi io stessa ho potuto compilare le voci nella nella enciclopedia delle donne di anite nostite ed erinna quindi lì ho visto che le persone google la no google no proprio i nomi di queste poetesse le cercano e grazie a questa enciclopedia hanno trovato me e quindi ho deciso di fare in modo che google fosse non solo appunto mezzo di riscoperta democratica di voce che sono state tagliate no dal canone e dai manuali di scuola ma anche medium proprio nel senso moderno del termine quindi di seduta spiritica che va a risvegliare le morte no perché la storia un po quella le va a risvegliare aiutato da saffo dicendo ragazze guardate che vi dovete svegliare perché oggi finalmente la gente vuole sapere di voi e quindi poi da lì no si sviluppano varie tematiche sulla questione di genere anche presente quindi questo è un po l'imballaggio della questione tu l'hai letto spero ti sia piaciuto spero ti sia piaciuto io ho letto è vero che adesso insomma la maggior parte delle rubiche dei libri quelle lì su a rai non è che leggono il libro ma non lì vabbè si sa ma è il personaggio che conta non è quello che è scritto quindi però lui perché siamo siamo rimasti ancora vecchio stampo ci leggiamo le cose e poi puoi confermare che è corto posso confermare che è corto ma è un frammento ma è importante perché quando si parla di questi temi la gente si pensa magari no oddio è un libro noioso mi serve un background da classicista per leggerlo invece in realtà quando ho scritto questo libro io sono una grande faudrice proprio della semplicità e mi piacerebbe che poi quello che sto cercando di fare sto facendo e portarlo proprio nelle scuole no perché è in realtà molto secondo me molto fruibile insegna questioni delicate in maniera anche divertente quindi si parla del sessismo linguistico della violenza di genere che ovviamente non può essere raccontata in modo divertente però può essere contestualizzata nella storia e quindi mandare dei messaggi anche storici rispetto a quello che viviamo oggi no e quindi ma certo ma infatti non è non è soltanto corto è anche molto divertente perché questa entità fittizia sia stratta che si presenta sotto il nome di google per risvegliare queste antichissime poetesse è divertente la situazione è da commedia no una sorta viene subito in mente la livella di totò quindi quindi è molto divertente poteva essere anche lungo ma tenendo questo tono non avrebbe comunque mai annoiato e sì effettivamente c'è questa purtroppo questa mancazza non soltanto in letteratura pensiamo alla storia dell'arte delle arti di si è veramente scandaloso come tantissime donne molto più brave dei loro maestri ma parlo di epoca rinascimentale quindi insomma moderna siano completamente ignorate da manuali scolastici e mentre ecco io ricordo perfettamente al liceo che Saffo noi la traducevamo non so se era il liceo mio che era vecchio Saffo anche io naturalmente si traduce e lei è stata molto affortunata si traduce sicuramente tra i lirici greci era quella che abbiamo tradotto di più però le altre effettivamente non se n'è a memoria e è vero che loro sì certo avevano dei frammenti non c'era l'odissea che era una cosa gigantesca c'erano dei frammenti e gravissimo appunto invece è questo fatto a cui accennavo prima delle donne rinascimentali che invece proprio intere cappelle affrescate e i libri non ne parlano è una cosa piuttosto imbarazzante e ti pongo una domanda una diciamo è leggera l'altra è una domanda che pongo a te ma pongo soprattutto a me forse e quella leggera è tu tra queste quattro hanno trattano delle tematiche a volte fondamentalmente diverse erinna piange la morte di questa sua amica a pochi giorni dopo le nozze e Saffo sì indubbiamente affronta le angosce esistenziali però è più come possiamo dire non ha una tematica così tragica come la morte di una giovane franciulla tu ma tra tutte queste con quale ti identifichi di più? guarda è una domanda difficile perché purtroppo di loro ci è rimasto veramente poco e anzi colgo l'occasione per dire che mi dispiace moltissimo per la povera Nosside perché Nosside viene da tutti gli antichi decantata come poetessa d'amore invece in realtà purtroppo dei suoi componimenti amorosi c'è rimasto ben poco se non un manifesto in cui lei dice guardate che io sono Emula di Saffo e quindi c'è quella poesia famosissima in cui lei dice io sputo anche il miele chi non conosce l'amore non sa quanto le sue rose insomma siano profumate quindi c'è questo epigramma molto bello in cui lei parla d'amore in realtà sono arrivati fino a noi gli epigrammi cosiddetti ecfrastici che è un parolone per dire semplicemente che Nosside descriveva la bellezza delle statue nel tempio descriveva la bellezza delle opere d'arti erano sempre opere d'arte al femminile quindi statue di donne si parlava sempre insomma del rapporto tra madre e figlia e quindi diciamo che un grosso vuoto rimane questo perché comunque noi non sappiamo in realtà di cosa hanno scritto in toto queste poetesse perché è tutto molto frammentario e mi sarebbe molto piaciuto sapere almeno leggendo quell'epigramma di Nosside appunto quello del miele il suo manifesto proprio dell'amore mi sarebbe piaciuto sapere come poi si declinava questa poetica purtroppo mi è venuto il dubbio e non è venuto naturalmente solo a me che quando i filologhi Alessandrini hanno stilato il canone e ci hanno tramandato le sue poesie qualcosa avranno tagliuzzato anche perché in realtà le donne non potevano parlare di cose d'amore era vietato secondo un antico stereotipo la stessa Saffo come tutte le sue figlie letterarie si è portata appresso nel tempo una serie di stereotipi prostituta e poi era lesbica e poi la chiamavano l'impu di Capuella insomma era brutta si sono inventati che era innamorata di un di Faone no? l'essere mitologico e stesse suicidata insomma hanno romanzato non solo su di lei ma poi anche sulle sue figlie letterarie no? e quindi questa è un po' la croce delizia di essere donna nell'antica nell'antica letteratura cioè quello di magari emergere no? come uno o due nomi nel silenzio della storia però di essere poi sempre etichettate e quindi diciamo che più che io immedesimarmi in loro io mi immedesimo purtroppo per la mia tragica empatia in tutte le figure che non vengono ascoltate per questo ho voluto portare avanti questa tesi e molti mi chiedevano quando studiavo Saffo all'università ma tu sei omosessuale? per farti capire no? non ci sarebbe stato ovviamente nulla di male però per dirti no però per dirti che la gente associa che se tu studi Saffo allora sei omosessuale cioè per farti capire proprio il gioco ma il mio stesso professore di greco mi rifiutò la tesi dicendomi ma lei signorina è così simpatica ma perché deve fare una tesi sulle donne? io ho detto come perché? sono filologa mi occuperò insomma di tutte le tematiche che riguardano la letteratura no? quindi per dire che semplicemente sembra quasi che ci sia un faro spostato no? e io ho provato a rimetterlo diciamo sopra queste poetesse utilizzando poi lo strumento che conosco meglio che è Google e quindi per me Google è un amico e quindi ho detto chi meglio di lui le può risvegliare no? no no è bellissimo poi questo incontro tra tecnologie ultramoderne soprattutto quelli della mia generazione ancora si muovono le web con un certo timore e insomma non è che sia proprio un nonnetto e questa invece grande passione per la filologia per questa epoca meravigliosa che è stata la base della nostra civiltà quindi è un sincretismo stupendo e per rilasciarmi proprio a quello che stavi dicendo tu la domanda che io vi pongo e che sicuramente ti avrà sfiorato pure a te è la seguente nella mitologia greca che come sappiamo è l'espressione forse massima della della filosofia nasconde in sé non solo la filosofia ma proprio una un sentire sociale quasi fosse una coscienza comune di un intero popolo ecco appunto la mitologia greca indica come dea della sapienza a terra c'ha la bellezza di nove muse donne soltanto cinque della poesia almeno nella tradizione omerica esiotea la mamma delle muse si chiama Menemosine che era oltretutto la dea della memoria e tutti noi sappiamo io dico tutti noi lo so che molti di voi non lo sanno però faccio il democratico tutti quanti noi sappiamo quanto la memoria fosse intimamente legata alla conoscenza non è la memoria dell'uomo occidentale di oggi è un'altra memoria molto più importante allora come mai in questa sorta di coscienza o collettiva la la sapienza e l'arte erano affidate in toto alle donne sia come generatrici che come proprio portatrici no? e al contempo venivano soffocate c'era proprio una specie di occultamento di detrisione a volte relegate comunque quasi a una letteratura secondaria secondo te questa dicotomia pazzesca ma che cosa vuol nascere? eh questa guarda è una è stata una delle riflessioni primarie che ho fatto quando ho scritto la tesi in realtà che partiva proprio da una riflessione antropologica perché mi sono chiesta io stessa ma com'è che le idee sono donne le muse sono donne ma addirittura pensiamo solo a tutte le eroine di età classica no? dei tragediografi Medea Elettra Antigone cioè sono dei capisaldi proprio della letteratura no? e queste venivano portate in scena e mi son detta ma come mai invece le donne non emergono se noi guardiamo le lapidi anche di età classica delle donne sono tutte uguali nel silenzio della loro ignoranza perché erano tenute dentro casa no? le donne dalle bianche braccia come Penelope no? eh rimangono solo queste lapidi brava moglie brava sposa brava sorella brava madre sono tutte uguali quindi c'è un silenzio imbarazzante e qui purtroppo c'è stata tutta una discussione intanto sulla questione del pantheon greco in cui le dèi incarnavano comunque degli stereotipi molto particolari la stessa Atena che tu menzioni viene sempre definita come la dèa mascolina e quindi non viene neanche proprio inquadrata come una donna in realtà poi c'era Venere quindi Afrodite naturalmente per i greci c'era Era ma c'era soprattutto Demetra Cerere il contrasto primario è proprio quello tra Demetra e Afrodite che si riflette nella società grega della Polis dove noi troviamo le spose di Demetra che sono chiamate le Melisse e quindi assecondano proprio una serie di culti legati alla società dove la sposa è pura non profuma di unguenti è la moglie perfetta sta dentro casa non parla di cose d'amore come diceva pure Semonide nel Giambo l'ape è la melissa in greco l'ape è la migliore perché sta a casa e non parla delle cose erotiche mentre Afrodite assorge il ruolo della dea delle prostitute delle donne relegate alla periferia della società quelle che festeggiavano le Adonie quindi il culto di Adone e quindi si univano per piacere e non per riprocreare quindi in realtà il panteon greco poi si declina anche nella struttura della società e anzi è proprio in questa età ellenistica dove proliferano queste poetesse che grazie allo spostamento del faro culturale da Atene ad Alessandria ed Egitto perché era subentrato Alessandro Magno con le sue conquiste e quindi la nascita dei regni ellenistici il sostrato greco inizia a influenzare quello che era il sostrato scusate egiziano inizia a influenzare quello che era stata la cultura greca e quindi abbiamo queste regine accorte dalla mamma di Alessandro in poi quindi poi Berenice Arzino e tutti questi nomi un po' particolari però le regine tolemaiche che diventano proprio le afrodite in terra assumono questa maschera di mogli ma mogli sensuali che si ricoprivano di unguenti un po' pure per giustificare forse il fatto che si sposavano i fratelli e quindi questo rapporto incestuoso doveva essere motivato alla società con qualcosa di molto seducente ed è proprio in questa età che proliferano le artiste le poetesse addirittura oltre a quelle di cui parlo nel mio libro io nella mia tese ho studiato le poetesse vaganti cioè le prime che vagavano di città in città nel mondo greco per portare i loro canti che erano epici tra l'altro non erano canti d'amore raccontavano le gesta proprio delle popolazioni delle antiche guerre ed è proprio in questo secolo siamo nel terzo secolo avanti cristo che viene finalmente certificata su un epigrafe la parola poetessa come proprio titolo professionale declinato al femminile tanto che la poveraccia la poveraccia di saffo per cinque secoli non aveva questo termine poetessa per lei e anzi veniva chiamata la decima musa tra i nove poeti lirici proprio perché sembra che ci fosse questo imbarazzo ma come la chiamiamo una poetessa donna in un mondo in cui non è concepito che una donna sia geniale e quindi qua scatta proprio il problema della credibilità la credibilità della donna che finché è una dea è una musa è qualcosa che non si tocca di ultraterreno va benissimo ma quando poi la devi calare nell'umano nella realtà la donna non può uscire dalla sfera domestica e questo è uno stereotipo che ci portiamo anche oggi noi perché se tu pensi alla credibilità della donna anche solo quando denuncia una violenza di genere che tutti mettono in discussione quello che dice pensa anche solo allo stalking ma quanto ci portiamo appresso proprio del concetto di inaffidabilità di non credibilità che sembrano veramente scemenze ma in realtà noi del passato ci portiamo tanto il retaggio è veramente forte ed è il motivo per cui io alla fine guardo sempre indietro per leggere il presente perché non siamo poi così lontani da quegli stereotipi se ancora oggi abbiamo certi tipi di problematiche e quindi da lì questa scissione diciamo tra l'ultraterreno e l'umano è molto forte nell'antichità ma nella realtà la donna doveva essere controllata proprio perché doveva essere gestita questo è un dato di fatto purtroppo c'è oggettivamente oggi questo retaggio millenario è difficile scrollarselo di dosso comunque le donne vengono pagate di meno a parità di lavoro io ricordo mia moglie che andò a chiedere quando era una ragazzetta appena laureata andò a chiedere lavoro presso delle catene di librerie di cui non facciamo il nome molto grandi di cui non facciamo il nome italiane e la prima domanda che le rivolgevano era lei ha intenzione di fare figli? cioè è impressionante eh sì lei rispondeva né sì né no perché ancora non ci pensava e soltanto per il fatto di non rispondere né sì né no già le preglieva il lavoro non l'hanno mai chiamata non l'hanno mai chiamata ma neanche proprio la cassiera cioè non voglio dire eh a consigliare Libria neppure la cassiera eh quindi questo è un problema eh è per male noi siamo stati molto eh felici potessi mostrarsi la copertina del libro Alessia sì provo a mettervela qua davanti sì no no perfetta 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 perché lo vogliamo ricordare a tutti è un pezzo teatrale divertentissimo ma a proposito c'è la la possibilità è un cantiere un'idea per metterlo davvero in teatro eh allora guarda io infatti ci tenevo infatti pure a ringraziare tutti i miei spacciatori di cultura che hanno collaborato a questo testo tra cui Francesco Fario che è un regista di teatro e fa parte della mia redazione in realtà è un po' che ci stiamo dicendo che ci piacerebbe farlo peccato che io ho lanciato questo libro nell'anno del covid e quindi giustamente adesso non è possibile però sicuramente io vorrei portarlo in scena infatti oltre a portarlo nelle scuole diciamo che il suo ambiente naturale è quello della scena e mi piacerebbe tanto vederlo in scena penso che morirei di infarto cioè nel senso non so se riuscirei proprio a riprendermi dall'emozione di questa cosa però insomma è stato un lavoro corale io devo veramente ringraziare l'artista che ha fatto la cover che è una mia redattrice la prefazione l'ha scritta una mia redattrice perché devo dire veramente queste sono informazioni che uno si prende dalla tesi di laurea ma poi se non le sviluppi nel tempo perché incontri anche le persone giuste come nel caso di Francesco che me ne ha curato la regia di questo spettacolo io non sono una regista quindi chiaramente posso scrivere ma poi serve sempre quella persona che ti dà il suo apporto e quindi ho sempre detto è un'opera corale è frutto veramente di tanti anni in cui ho girato per l'Italia con tanti amici e amiche per parlare della questione di genere e di tanti amici e amiche che ho in redazione e quindi sono veramente contenta proprio di averlo tirato fuori perché è un po' un ricordo anche di tutti questi momenti che abbiamo passato insieme e spero che si concretizzi sì un futuro recitato sia da attori proprio nelle compagnie ma anche proprio dai ragazzi a scuola io me li immaginavo proprio con il maschietto che fa Google e le ragazze che fanno le poetesse cioè io spero insomma che si sviluppi così perché ce li vedo ci sono i social dentro c'è Google cioè è una cosa che veramente possono leggere tutti ti dico guarda mia madre che fa la ragioniera di mestiere l'ha letto e ha detto per una volta ho capito quello che dici e quello che fai quindi ho detto beh allora abbiamo una speranza c'è una speranza no ma sicuramente allora ti lasciamo con questo augurio di veramente vedere realizzato proprio concretamente perché i ragazzi poi hanno tanto bisogno di queste cose sicuramente il gioco perché poi il teatro è un gioco come diceva il grande Gigi Proietti il gioco è diverso dallo scherzo perché il gioco ha delle regole ti auguriamo veramente di realizzare questo sogno che non è soltanto il tuo ma diventerà pure sicuramente quello dei ragazzi che andranno a interpretarlo e ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo ma grazie a voi per avermi ospitata a presto Alessio ciao ciao